Spettacolo, intrattenimento e attività all'aria aperta in Alto Piano, anche a Gallio. Un fine settimana ribattezzato Tesori del Territorio, tramoste, sfilate e degustazioni. Una parola tesori che racchiude anche i cosiddetti ori dell'Alto Piano, ovvero formaggio, miele, birra, polenta, grappa, con sapori, odori, colori, fiori e tutto ciò che c'è da queste parti, patrimonio unico per la montagna italiana. E poi vere e proprie sfilate di moda per coinvolgere abitanti e turisti. Una vetrina per l'Alto Piano, in programma anche mostre e un'esposizione itinerante della Regione Veneto con fotografie e testi sull'ecologia ricordando la tempesta Vaglia.